Il mondo del lavoro cambia in fretta e i giovani, senza conoscerne l'opportunità, fanno fatica a orientarsi. Dal prossimo anno scolastico in Lombardia avranno nuova opportunità per farlo. LabLab è una web app, è uno strumento semplice, innovativo e un'azione di sistema dedicata agli studenti, ai docenti e anche alle nostre aziende. Basteranno pochi clic alle imprese per registrarsi sulla piattaforma e caricare il loro company profile, un biglietto da visita virtuale con cui presentarsi ai lavoratori del futuro, ovvero gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Migliaia di loro in tutta la Lombardia da ottobre avranno accesso a LabLab. Lì potranno navigare tra le opportunità che il mondo produttivo offre loro e prenotare, in base alle disponibilità delle aziende, la loro job experience, una sorta di colloquio di lavoro di un'intera giornata, soli o accompagnati dai genitori. In questo anno da assessore all'istruzione e formazione lavoro di Regione Lombardia ho incontrato tantissimi ragazzi e la prima domanda che sempre mi fanno è come faccio a scegliere un lavoro se non conosco il mondo del lavoro e dall'altra parte visitando tante aziende mi sono resa conto che le imprese investono sempre di più nel welfare aziendale e quindi all'attenzione alla persona. Questo noi vogliamo trasferirlo ai nostri ragazzi e l'unico mezzo che abbiamo a disposizione è portarli all'interno delle nostre aziende. Se la disoccupazione in Lombardia è ormai calata a un livello fisiologico poco sopra il 4% e si sta progressivamente riducendo anche il fenomeno dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, il mismatch, cioè il disallineamento tra le competenze richieste dal tessuto produttivo e quelle offerte dai lavoratori resta un problema da risolvere. Regione Lombardia ha deciso di farlo rivoluzionando il paradigma. Il nostro obiettivo è quello di portare più studenti possibili proprio dove si produce quindi all'interno delle nostre aziende, delle nostre imprese. A tutti i nostri ragazzi io dico di prendere al volo questa straordinaria opportunità perché siete voi che potete scegliere quale azienda visitare, dove fare le vostre esperienze, capire esattamente qual è il lavoro giusto per voi e soprattutto dal mondo del lavoro capire qual è il percorso di studi migliore per realizzare le vostre passioni. L'appello è anche alle aziende, prime fra tutte quelle che oggi faticano a trovare la forza lavoro di cui hanno bisogno. Dobbiamo crederci tutti, da noi istituzioni, la scuola con gli studenti, i docenti ma soprattutto i nostri imprenditori. L'essere presenti oggi in questa piattaforma vuol dire prendere a volo una grandissima opportunità. L'opportunità si trasforma in zero alibi perché oggi siamo noi attraverso questo strumento a portare migliaia e migliaia di studenti all'interno delle loro aziende.